Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con il 32esimo video di Aerotrack Simulator 2 Siamo qui con i penultimi viaggi con il nostro pattern beat Oggi andremo a Budapest Portare una bella scamionata di tronchi Direi mettiamo in moto tutto quanto Adesso fare il posizion Un bel po' di tubi Pronti per partire Perché nel caso di a Budapest Se ci sia qualcuno che magari non capisce il tubo almeno noi ne portiamo tre Adesso qua non conviene perdere tempo se macchine non ci sono Si può subito partire Pare che bei tigoni di riva qua Tutti pronti per E avanti questi cemafori Guarda che bene Rimorchietto Quattro catene E via Adesso qui Se il cemaforo ha intenzione di Cambiare mentalità e andare verso il verde Bene perché sennò E anche se è veramente bello Per tutto un video in esterna Però c'è sempre il problema che il camion non è ben manovrabile dall'esterno Preferisco girare così all'interno Spero l'audio si senta bene Perché ho notato nello scorso video Che se parlo con la camera esterna La mia voce si sente poco Ho alzato un po' il microfono Ho passato un pelino l'audio qua del generale del gioco Quindi dovremmo aver raggiunto un equilibrio abbastanza giusto Adesso qua Un po' La vedo un po' stretta Qua se vo' a dirlo tutta Potrebbero fare delle strade un po' più larghette Per chi ha possibilità di acquistare un camion del genere E avere anche una strada un po' più larghetta Non dispiacerebbe Dover fare le curve a cicu 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 Ma bene ragazzi Non è neanche tanta strada 100-110 km Dovremmo fare anche Anche presto Quindi dovremmo portare anche una cosetta Un viaggio molto tranquillo Non spero Senza magari incidenti O cose varie Sono le due Quasi le tre di pomeriggio Quindi ci saranno tutti per strada Tutte macchine per strada Tutti che rompono le scatole Nel migliore dei modi Sarà da stare attenti Altra Il miglioramento Il miglioramento È un po' più lunga Stefano Per chiilia È un rischio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' tante curve devo dire, però per il resto dai. Ci siamo 30 kg di 22 adesso e questi cavalli sono micidiali, riescono a spingersi sempre al massimo per arrivare il primo possibile a destinazione. E' meglio rallentare un po'. Che cosa ha frenato per niente? Si spostava e basta, faceva più bella figura. Speriamo dopo di trovare il giusto trasporto, il giusto viaggio verso la città mancante e avanti questi limiti, la raga, vai su questi limiti, la sai che la gente cura. È una strada dritta così, vedi? Adesso siamo a Budapest. In teoria ho sbagliato Corsia, comunque, perché di qua girano... Pazienza, zero chilometri praticamente siamo arrivati. Ed eccola qui la nostra bella fabbricchetta. Ho giù che scantoniamo il naso che è il peder che è qua. Doviamo andare cauti perché con tutti i cavalli che ha, fa presto, fa arrivare anche a 40 l'ora in retromarcia, con un trasporto eccellente, cosa molto veloce, un'oretta e mezza, 200 XP, e ci portiamo un pochettino avanti verso... adesso dovremmo arrivare al livello 16. Ne abbiamo qui, dovremmo scegliere un bel trasporto, adesso andremo su un'altra città. Adesso dovremmo andare a Debrecen. Sicuramente tutti sanno, tutti la conoscono. Anche questi trasporti non sarebbero male, però Slovakia, la voglio aspettare. Eccolo qua, assorbenti chimici. Ok, va bene. Poi, giusto quel cos'altro, perché è proprio quelle cose là. Autocisterna, va proprio in un rimorchio con la cisterna e buttare solo. Niente, l'unica è trasportare un po' di assorbenti. Qualcuno deve pur fare anche quel trasporto lì, ragazzi, se lo volete che vi dica. Adesso porterò un po' di assorbenti e... Niente, che dire. Intanto, cerchiamoci da nessuna parte, perché sono esattamente qui. Perciò, basta andare sopra alla zona preindicata. Oh yeah, eccola qua, la zona preindicata. Sì, ho deciso questo qua, anche perché è un carico veloce. Guarda, siamo già anche giusti. Siamo qua, perché spacchiamo fuori tutto. Oh yeah. A posto. Bene, vamos, anche verso queste città che tutti conoscono, portare un po' di cose un po' personali, un po' femminili forse, ma qualcuno deve pur trasportare certe cose. Non ho neanche visto quanto pesano, per capire un po' la quantità che ce ne sono, perché, per quanto ne so, non pesano molto. Io sono abbastanza leggero. Comunque, adesso che andiamo via dritti, però poi si gira, facciamo un po' di incroci, un po' di roba. Mi conviene andare in interno cabina per avere maggiore controllo del mezzo. Così, ragazzi, vi beccate due corse su un unico video, perché quella di prima, essendo una cosa molto... molto rapida dare precedenza eh che non andiamo a fare patoccio del prodotto. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avanti quel pulmino che va a meggiungore, sempre in mezzo ai beiotti, sempre, sempre. Se non è lui quel rosso che rompe le scatoe, guarda, da mandare immediatamente una mail ai creatori del gioco di eliminare il pulmino rosso, perché si comporta in maniera, diciamo, un po' scorretta, regole, diciamo, della strada. Dite anche voi la vostra, ragazzi, lasciate un commentino, ma secondo me andrebbe un po' tolto, perché è una cosa impensabile. Noi siamo qui, un viaggetto tranquillo, 145, il limite 80, e si mette di mezzo il furgoncino a rischiare poi di fare sorpassi e mettere a repentaglio il carico. Non so, ditemi voi. Allora, qua, il Jeep rosa so compare di qui di furgoni, di pulma. Amico bene. Allora, qua, il Jeep rosa so, è un po' tolto, è un po' tolto. Allora, qua, il Jeep rosa so, è un po' tolto. Allora, qua, il Jeep rosa so, è un po' tolto. Allora, qua, il Jeep rosa so, è un po' tolto. Ah, dai, dobbiamo anche svoltare, perciò è meglio rallentare. Basta che corrono un pelino anche qua, perché non è perché allora c'è la curva, allora si va piano e basta. Dai, muoversi, muoversi, muoversi che ti caccia un sorpasso miracoloso. Guarda, ho c'è qua che viene in basso qualche lunio. Dai. Stai per finire il gasolio, un'altra volta, ho fatto il gasolio due corse fa. Eh, ragazzi, se volete cavalli dovete anche dargli da bere. Manca poco, 5 minuti e siamo arrivati. Eh, ragazzi, su questi limiti di velocità, però, ci sono proprio fissati proprio. Ops, io dovrei anche girare qua. Ci ho messo un po' in una posizione tantino scomoda. Dai che, dai che sta ferma. No. Cavolo. Ok, nessuno mi ha visto. Possiamo andare avanti. Un altro smog. Eh, questo qui ha la telecamerina. Pazienza. Eccola qui la nostra fabbrichetta. Mi sono già stato io qua. No, non ho mai stato. In questo tipo di fabbrica, con l'entrata così, mai fatta. Allora, qua, mi conviene fare una cosetta un po' fatta bene. L'appelo della recensione. Mamma mia che storto che sia. Bianco e turbine. In retromarza, se no, spacchiamo fuori tutto. Sì, dai, non è proprio centrato, ma chiamiamolo anche accettabile, dai. E' un altro trasporto eccellente. E' un altro trasporto eccellente. Siamo due trasporti eccellenti di fila. Qui siamo già stati, qui siamo già stati. No, non c'è neanche uno. Non c'è neanche uno. Questo trasporto veramente si passa addirittura... Si passa addirittura per la città Slovacchia, dopo andiamo a finire in Polonia. Ma non volevo andare in finire in Polonia. Volevo fare la Slovacchia, ragazzi, col Peterbilt. E poi ritornare con un camion, tra virgolette, normale. E magari andare con lo Scania e far tutta la Svezia con lo Scania. Magari buttare giù anche le due città qui della Germania. Poi la Polonia volevo farla a Mari con altri trasporti. Niente, adesso qui dovrò scegliere un po' cosa fare a sto punto. Perché bisogna vedere un attimo cosa c'è. Bene, ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. E godetevi questi ultimi viaggi col Peterbilt, perché non ce ne saranno molti. Adesso vado a fare un po' di gasolio, se c'è qualcosa qui vicino. Così siamo pronti per il prossimo viaggio. Bene, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao! Ciao ciao!